Arianno Razzi e il figlio Nea Simonetti avevano iniziato a pianificare il delitto dal 16 dicembre 2020. Lo scrive la procura di Macerata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari datato 26 luglio sulla morte di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa la sera della vigilia di Natale nella villetta di via Pertini 31 a Monte Cassiano. Ai tre indagati, i familiari della vittima, la figlia Arianna, il nipote Nea e il marito Enrico Razzi, l'accusa contesta l'omicidio pluri è aggravato. La difesa, composta dagli avvocati Andrea Nitti e Valentina Romagnoli, ha tempo fino al prossimo 15 settembre per presentare memorie o chiedere l'interrogatorio dei propri assistiti. Nell'atto, a firma del sostituto procuratore Carusi, l'accusa considera Arianna colei che ha organizzato e diretto la cooperazione nel delitto. Come appurato dal medico legale Roberto Scendoni, Rosina è morta per strozzamento, soffocamento e schiacciamento del torace. Gli indagati devono rispondere anche dei reati di simulazione di reato rapina e maltrattamenti in famiglia. Solo ad Arianna Orazzi vengono contestati la violenza privata. Aveva tolto alla mamma il cellulare che le era stato regalato da un'amica e l'induzione a non rendere dichiarazioni nei confronti del figlio Enea. Ai due vengono contestati i reati di estorsione. Avrebbero costretto l'anziana a cedere ad Enea la propria quota della villetta ricattandola con la promessa che, sottoscrivendo l'atto dal notaio, le sarebbe stata restituita l'auto di cui le erano state tolte le chiavi. Gli avvocati Netti e Romagnoli a questo punto possono accedere a tutti i documenti e file audio per tracciare la linea difensiva da qui a settembre. C'è la possibilità di chiedere l'interrogatorio per tutti e tre gli indagati, uno step che andrà valutato attentamente, dice l'avvocato Netti, non appena completato lo spoglio del fascicolo. La difesa ritiene allo stato attuale che non vi siano prove della partecipazione attiva del nipote di Rosina nell'omicidio, ma la procura la pensa diversamente. Enea ha dichiarato di essere andato quel pomeriggio al supermercato, di aver sostato nell'area parcheggio guardando il cellulare e poi di essere tornato a casa imbattendosi nella scena del delitto. Queste le immagini di videosorveglianza che mostrano il nipote di Rosina Carsetti mentre esce quel giorno dal supermercato. Secondo l'accusa c'è un'incongruenza negli orari riferiti agli inquirenti da parte del nipote della 78enne. Per la difesa invece l'orario riferito è compatibile con l'assenza del giovane nella villetta mentre si consumava l'omicidio.